Viva il piano! Oh oh! Ehi! Su le sierpe! E' fata il ruolo! Allora dai, studiiamo! Sì! 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 Ciao Gabriele, questa è una decena volta di tanti 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 anni, ti mando un bacio grande e spero di vederci presto! Tanti auguri! Guarda che ci sono degli altri ragazzi che volevano fare video rispetto eh! Guarda il video! Ciao Gabriele, sono Carlo e ti volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno! Un abbraccio grande! Dai un po' eh! Gabriele, auguri! Ciao ciao! Ciao grande Gabriele! Ti mando questo video per farti tanti auguri di buon compleanno! Un abbraccio! Ciao Gabriele Maurizio! Voglio farti tanti auguri per il tuo compleanno! Ti mando un grande abbraccio! Mi raccomando divertiti! Stai con la tua famiglia e i tuoi amici eh! Ti mando un abbraccio grande! Ciao! Ciao Gabriele! Auguri ancora!